Venite a trovarci nel nostro showroom, Tirregna Auto, la piattaforma dell'auto. Partita attesissima per la Cavese al Simonetta Lamberti contro il team Altamura. Ieri pomeriggio, mister Leonardo Bitetto, il tecnico dei Metelliani, ha avuto l'intera squadra a disposizione e appare intenzionato a riconfermare integralmente gli stessi giocatori che avevano affrontato la Versa Normanna giocando dal primo minuto. Difficile che possano trovare posto dall'inizio il centrocampista Favasuli e l'attaccante Fabio Oggiano. I due non hanno ancora i 90 minuti nelle gambe e hanno bisogno di altro tempo per poter rientrare a pieno regime tra i titolari nelle prossime gare. La squadra a cui lotta ieri è stata anche incoraggiata decisamente dai propri sostenitori allo stadio. Vincere rappresenterebbe una bella iniezione di fiducia in vista del prosieguo del campionato, che sarà comunque delicatissimo. Però attenzione ai giocatori dell'Altamura che hanno molta corsa e nelle loro giocate denotano un'ottima preparazione fisico-atletica. Sono quattro, tra l'altro, gli ex della Cavese che giocano nelle file murgiane. Sono l'attaccante esterno Simone Danna, il centravanti Emanuele Santaniello, la mezzala Domenico Aliperta e il regista Ciro Lucchese. Alcuni di questi sono titolari e la tifoseria di Cava li conosce benissimo per ciò che possono dare alla propria squadra. I tifosi organizzati di Cava, tra l'altro, si preparano a onorare la memoria del loro amico scomparso due anni fa, al quale il settore distinti dello stadio sarà intitolato, vale a dire Edoardo Purgante, con una coreografia imponente. Ci penseranno soprattutto loro a creare a Lamberti l'atmosfera tipica della squadra che lotta per qualcosa di importante, come potrebbe essere il primo posto in Serie D, in quello che è considerato il girone per eccellenza del campionato intero. Grazie a tutti.